La televisione è soltanto un maledetto. E' un circo, un carnevale, è un baraccone itinerante pieno di ballerine, funambuli, fenomeni da baraccone, cantanti, giocoglieri, giocatori di calcio. Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. Se volete la verità, andate da Dio, andate dal vostro curo. Andate dentro voi stessi, amici. Solo lì è il posto in cui troverete la vera verità. Perché da noi non la saprete mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire, mentendo senza vergogna. Quello che voi volete sapere è che Nero Wolf trova sempre l'assassino. E che nessuno muore di cancro a casa del dottor Killmore. Qualunque cosa succede, guardate l'orologio. Il nostro eroe, alla fine, vince sempre. Vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Noi commerciamo illusioni. Niente di tutto questo è vero. Ma voi tutti ve ne state seduti là. Giorno dopo giorno, notte dopo notte. Di ogni tal, razza e fede. Conoscete soltanto noi. Già cominciate a credere alle illusioni che fabbricamo qua. Cominciate a credere che la TV è la realtà e che le vostre vite sono un'illusione. Voi fate tutto quello che la TV vi dice. Vi vestite come in TV. Crescete i vostri figli come in TV. Mangiate come in TV. Persino pensate come in TV. Questa è pazzia di massa. Siete tutti matti. In nome di Dio. Siete voi altri la realtà. Noi siamo le illusioni. E allora, fatemi un piacere d'accordo. Spegnite la televisione adesso mentre io sto parlando. Anche a metà di questa fase non è importante che sentiate quello che ho da dire. Spegnite la televisione ora. Questa foglia di massa deve terminare. Spegnetela adesso. Proprio mentre sto parlando spegnitevi il televisore in faccia. Spegnetela questa televisione. Spegnetela adesso. Spegni. Spegnete il televisore. Dovrete spegnerla adesso. Spegnete questa televisione al momento della frase che io sto dicendo a metà. Spegnetela. Spegnetela adesso. Spegnetela adesso che sto dicendo la frase. Spegnetela adesso. Spegnetela adesso. Oh 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 Grazie a tutti.